Cari ci, cari, ben trovati. Siamo qui per una catechesi sul Venerdì Santo. Allora, procediamo con ordine. Cominciamo a capire chi sono quelli che vogliono mettere a morte il nostro Signore Gesù Cristo. Noi sappiamo benissimo che la morte di Gesù non è una morte qualsiasi. Anche se in quei tempi era molto comune, abbastanza comune, che i Romani mettessero a morte dei personaggi scomodi, delinquenziali, gente che era contro l'impero romano. Era un supplizio abbastanza comune. Tra l'altro, un amico medico mi ha detto che Gesù non è morto per le ferite ai mani, ai piedi e al costato. Non erano ferite letali, anche se molto dolorose. È morto invece per collasso, per asfissia. Provate a stare alcune ore con le braccia così alzate, legate magari a un legno e vedete che a un certo punto è andato in apnea e finisce che morite. Non solo, ma i Romani avevano una bella abitudine di spezzare le gambe ai crucifissi, perché sotto c'era una tavoletta su cui poggiavano i piedi. Spezzando le gambe, questi cadevano malamente e ancora di più questo aspetto medico dell'asfissia si presentava. Quindi morivano, però a lui non spezzano le gambe, perché c'è scritto che non verrà spezzato a lui alcun osso. Quindi muore, poveretto, di asfissia naturale, per così dire. Quindi dovuto a questa posizione infame, scomoda, allucinante. Era il peggior supplizio, ripeto, era il modo peggiore che i Romani conoscessero per mettere a morte una persona. Era molto meglio essere sgozzati o passati con la spada che non patire quelle sofferenze. Comunque, le cronache del tempo dicono che anche decine, forse centinaia di persone venivano crocifisse nello stesso giorno. E guardate bene che la crocifissione doveva sempre avvenire in un luogo sopraelevato. Quindi sulla collina, una collinetta, insomma un luogo che si vedesse bene da tutte le parti della città. Perché? Pensate, i Romani erano dei geni anche nel male. Perché tutti quanti dovevano vedere quello che succedeva ai traditori, agli infami e ai delinquenti. Quindi ecco perché Gesù fu corregiviso sul Golgoth, sul Calvario appunto, che vuol dire cranio. Perché tutti quanti potessero vedere anche da lontano, non ci si poteva avvicinare, non potevano avvicinarsi se non alle donne, in certe condizioni, e i ragazzi. Ecco perché Maria e Giovanni possono avvicinarsi. Perché rientravano in questo numero di persone che potevano in qualche modo interloquire, avvicinarsi ai crocifissi. Gli uomini adulti? No. Ecco perché gli apostoli poi appunto scappano, non si fanno vedere. Esponenti di altre religioni, per esempio i buddhisti, dicono che il nostro maestro, il Buddha, l'Illuminato, è morto in modo molto rispettabile. I pagani dicono, ma il nostro maestro Socrate, sapete quello Socrate, ha bevuto un veleno ed è morto, diciamo così, per eutanasia. Quindi come mai il nostro Messia ha avuto una morte così crudele, così tremenda, allucinante? Allora, intanto non è il popolo ebraico che mette a morte Gesù. Allora, capiamoci bene. Abbiamo detto che Gesù amava il popolo, guariva i malati, sannava i lebrosi, dava da mangiare, spezzava i pani e tutto il resto. Quindi non si poteva odiare un uomo così. Chi lo odi invece sono quelli che hanno in mano il potere. Scrivi, farisei, sacerdoti, dicono questo è uno pericoloso, questo va al Tempio, fa cose strane, dice non andate a sacrificare al Tempio, quindi vuole dire anche una perdita economica. Ecco perché Gesù muore anche per cause economiche e finanziarie. Questo già l'ho detto, lo ripeto perché è importante. Ma viene messa a morte in modo così crudele appunto perché hanno deciso che sia di esempio a tutti quelli che faranno come lui o che vogliono fare come lui, discepoli, apostoli e quant'altro. I romani scelgono proprio questo modo di ucciderlo, crudele, crudelissimo, pubblico, pubblicissimo, perché fosse da esempio. Crucifisso davanti a tutti e tutti quanti vanno a vedere che cosa succedeva a questi traditori dello Stato romano, perché la Palestina, la Terra Santa, anzi, era una provincia romana come l'Egitto, come gran parte del Medio Oriente. Quindi, occhio, eh? Gesù è l'uomo Dio e va bene, questo lo hanno stabilito i concili, quindi non c'è bisogno di tornarci sopra, leggetevi le dichiarazioni sull'umanità e la divinità di Cristo. Però c'è un momento in cui riceve pienamente, pienamente il mandato di Dio. Sapete qual è? Lo sapete. Nel Giordano il battesimo, il battesimo no, infatti compare la colomba dello Spirito Santo, quindi vuol dire che al mondo si rivela pienamente come figlio del Padre e mandato dallo Spirito Santo. Spirito vuol dire soffio, eh? Quindi vento, forza, viene portato nel deserto dallo Spirito Santo, quindi sempre lo Spirito Santo è con Gesù Cristo. tra parentesi piccola precisazione, Gesù era quel rabbino che visse nella storia, figlio di Maria, eccetera. Il Cristo, invece, è l'unione della natura umana e della natura divina. Quindi non confondiamo, eh? Non diciamo il corpo di Cristo, non il corpo di Gesù. Non mangiamo il corpo di Gesù. Attenzione. Mangiamo il corpo di Cristo. Quindi, questo tanto per chiarire qualche dubbio che mi viene sottoposto a volte. Bene. Allora, dal battesimo suo di Giovanni, Gesù diventa pienamente, si manifesta pienamente come Dio e uomo. Lui era già, però, si manifesta pienamente. E, come Dio, ha un amore senza limiti, senza fine, ma è anche un uomo eccellente, la pienezza dell'umanità, come noi dovremmo essere, un modello antropologico, quindi è il modello di uomo, e anche per le donne, ovviamente, a cui dobbiamo tendere. L'uomo per eccellenza è l'uomo in cui si realizza in pieno il progetto di Dio. Ecco questo, eh? L'umanità di Gesù è l'umanità in cui pienamente e perfettamente si realizza il progetto di Dio sull'uomo. Può essere debole, può essere tentato, e lo è. Ma non pecca. Gesù non poteva peccare. Ecco, quindi, Gesù riceve questa missione dalla Trinità, la missione trinitaria, quindi. C'è una bella contemplazione di Sant'Ignasi di Loyola, la Trinità contempla il mondo e stabilisce il momento in cui il figlio, la seconda persona della Santissima Trinità, deve assumere la natura umana, assumere la natura umana, non farsi uomo, e mi raccomando, non ditelo, perché è sbagliato, anche se si sente dire no. La seconda persona della Santissima Trinità, il figlio, assume la natura umana, non diventa uomo, non si fa uomo, non si fa uomo, non si fa uomo, non si fa uomo, sono tutte cose imprecise che si sentono, quindi, occhio! Ecco allora che con la divinità che assume la natura umana inizia una nuova era. E in passato, se vi ricordate i greci, per esempio, le divinità, gli dèi greci, a volte si presentavano in forma umana o animale. Per esempio, mi ricordo che Giove, per conquistare, per sedurre una ragazza, si presenta come cigno e vuole conquistare l'eda e così via. Quindi non è una novità, però la novità cristiana è che Dio, la seconda persona della Santissima Natura assume la natura umana e patisce, subisce come noi. Gesù suda sangue, ha paura, è tentato come noi, come noi, la natura umana, la divina, ovviamente, è divina. dove vive il Dio che assume la natura umana? Vive tra il popolo giudaico e il popolo ebraico. Quindi per questo è un popolo eletto, scelto, eletto vuol dire scelto. Ma non vuol dire che sia l'unico popolo che il Signore sceglie. Ha scelto quello perché era un popolo piccolo, sbandato, insomma, che la gente rideva quando parlava del popolo ebraico. Pensate alla potenza militare della Siria, dei Greci, gente intelligente, intellettuale. I Romani stessi hanno fondato il diritto. Beh, tutti questi popoli il Signore li scarta, sceglie il più piccolo, il più abbandonato, il più disprezzato del popolo ebraico. guarda un po'. Però, Dio, vero, non trascura gli altri popoli. L'amore di Dio per tutti. Già nell'Antico Testamento si parla di amore di Dio verso l'Egitto, la Siria, l'Etiopia, Ninive. Ninive. Vi ricordate Ninive? Ci manda Giona per dire Ninive, vai a... scusate, Giona, vai a Ninive per convertire quelli scapestrati. Giona dice Signore, io non me la sento, sono nemici, mi ammazzeranno. Giona, vai! Giona scappa. Scappa, va in Spagna, va in fondo al mare, imbocca il pesce, il pesce lo rigetta sulla terra, torna, ma a suo malgrado a Ninive di malavoglia ci va, ci va di malavoglia. Minaccia gli abitanti di Ninive o vi convertite o se no fra 40 giorni non desisterete più e per ogni niviti si convertono. Vi ricordate? Perfino gli animali, dice il libro di Giona, fanno penitenza. Ma sono cose da uscire di testa. Perfino gli animali vestono il sacco, fanno penitenza, non mangiano. Gli animali? Quindi, vuol dire che che Giona ha avuto successo grazie al Signore, nonostante le sue fedeltà e le sue paure. Bene, quindi, il lavoro di Dio, dicevo, è per tutte le nazioni, Egitto, Siria, Etiopia, Ninive, quant'altro. Gli ammoniti, dove parlati di ammoniti agli ebrei, è come se gli parlasse dei nazisti, perché erano quelli che hanno tradito Israele in modo peggiore, li hanno fatti passare e poi li hanno sterminati. Parlare di ammoniti era una cosa, no? Bene, quindi Israele è il popolo eletto, Dio sceglie quel popolo e però poi questa scelta si allarga a tutti i popoli, grazie a Dio. Tutti quanti dovranno essere chiamati alla salvezza. Ecco allora, da dove si capisce? Già dal Genesi, già dal Genesi, capitolo 12 dice tutte le genti saranno benedette in te e questo personaggio che sente questa frase ha niente meno che Abramo. Tutte le genti saranno benedette in te. Abramo padre di molti popoli, quantomeno cristiani, ebrei, musulmani si riconoscono in Abramo. Quindi, tutte le genti saranno benedette in te. Guai a disprezzare a un ebreo, guai a disprezzare un islamico, mi raccomando, sono figli di Abramo benedetti quanto noi. Se poi si comportano male è un altro discorso, però, però, sono benedetti da Dio. Ecco allora, Gesù a un certo punto quando comincia la sua missione pubblica verso i 30 anni, sapete che prima lavorava col papà, papà era non falegname, non diciamo Giuseppe falegname, è brutto, brutto, era un artigiano qualificato, era un tecton, c'è scritto nel libro, nel testo del Vangelo, tecton, da qui il nostro architecton, quindi era se vogliamo più un geometra che un falegname, se vogliamo tradurre in linguaggio attuale, un personaggio che quindi non solo lavorava in legno, ma contribuiva anche all'edilizia, all'agricoltura, costruiva attrezze agricole, insomma, era un artigiano qualificato, e quindi Gesù, figlio di Giuseppe, putativo, figlio putativo, Gesù sape, fa, immaginiamo, la stessa cosa, quindi lavora col papà, ovviamente. C'è una tradizione, tradizione, non è né accolta, né confermata dalla Chiesa, però è una tradizione che dice che i falegnami o meglio i tecton, tectan, gli artigiani qualificati fabbricassero anche le croci per i romani. O perbacco, vuol dire che Gesù si è fabbricato da solo la croce? È una tradizione, ripeto, non c'è nulla che lo fa pensare, però uno ci ragiona e dice ma se 2 più 2 uguale 4 gli artigiani qualificati che lavorano in legno può darsi che i romani avessero chiesto la croce? I romani certo non si mettevano lì a costruire le croci, ma facevano fare agli artigiani, quindi può essere che si sia costruito la croce per lui. Allora, quindi dicevamo Gesù a un certo punto si incontra o meglio si scontra con le istituzioni di Israele, il Tempio, il sacerdozio, l'alleanza, il culto e non è proprio accettato, no, vi ricordate i sacerdoti dicono ma questo chi è? Questo che minimizza il Tempio, dice non andate a fare i sacrifici al Tempio, non piuttosto che ammazzare i buoi andate a confessarvi eccetera eccetera. Sapete, quando un ebreo peccava doveva comprare un animale dai sacerdoti ovviamente che avevano il monopolio quindi pagare i soldi prendere questo animale animale piccolo se il peccato era piccolo animale grande se il peccato era grande lo portava al Tempio e il sacerdote lo sgozzava secondo la legge lo arrostiva faceva un barbecue sacrificio di suave odore quindi il Signore aspirando questo profumo di carne cotta si placava questo era il modo di espiare i peccati e quindi e quindi ciò comincia a dire ma lasciate perdere tutti questi sacrifici che nessuno non gradisce guai viene a toccare le finanze del Tempio non solo ma poi vi ricordate entra al Tempio vede il mercato rionare cambia valute gente che vende animali quant'altro boh butta in aria i tavoli rovescia tutto fa delle fruste picchiani poveretti malcapitati magari potessero essere frustati anche così da Gesù quella dolcezza che è un gesto profetico non è un gesto di cattiveria voleva far capire che nulla neanche il denaro neanche i vitelli potevano essere anteposti al culto del Signore di suo padre avete fatto della casa del padre mio una spelonca di ladri perché poi rubavano anche erano anche strozzini insomma comunque comunque allora l'antica alleanza diceva che che Dio guardava con sospetto l'uomo lo amava perché era creatore di Dio però lo guardava con sospetto l'uomo era spesso impuro un essere indegno bastava che sgarrasse in qualche modo ecco subito che era considerato impuro doveva purificarsi già toccare un cadavere lo rendeva impuro aver rapporti sessuali era causa di impurità doveva stavarsi starsene un po' per conto insomma alla fine l'antica alleanza dice un po' dappertutto che Dio considerava l'essere umano non tanto bene dopo il peccato originale ovviamente il uomo è fatto bene però poi si è piuttosto sderenato come diciamo noi si è piuttosto sviato e allora cerimoni di purificazione lavaggi lavacri vuoi sacrificati beh tutto questo finisce con Gesù dice basta smettiamola di pensare che Dio vi consideri come impuri come gente di poco conto no no le nozze dell'agnello l'agnello sposa la sua chiesa da prostituta come era considerata prima diventa la sposa capite perché Gesù poi incontra difficoltà no a volte nelle mie prediche dico avete letto il libro di Pinocchio molti dicono sì perché Pinocchio è un libro che si legge almeno si leggeva moltissimo tra quando eravamo ragazzi bene Pinocchio se ci fate caso è un simbolo cristologico quello che gli accade accade anche a Gesù c'ha guai con la giustizia finisce in bocca al pesce muore e risorge e quindi il signor Collodi forse non si è reso conto ma ha scritto un romanzo ispirandosi pienamente alla figura di Cristo non diciamoglielo perché forse neanche era credente però se lo leggete bene vedete c'è questa fatta dai capelli turchini chi può essere la Madonna ovviamente che la aiuta e via dicendo bene allora Gesù dice va bene adesso non più sacerdoti con cattive intenzioni ma voi stessi siete figli di Dio voi stessi potete rivolgervi a Dio chiedere perdono confessarvi da chi vi dirò io Pietro e gli altri senza dover pagare senza scacciare scacciare soldi quant'altro quindi via venditori via animali via denaro dal tempio lasciate perdere lasciate perdere dice ma allora qualcuno mi ha chiesto giustamente in maniera molto intelligente mi ha chiesto Don Tiziano ma allora se possiamo rivolgerci direttamente a Dio perché Gesù è detto sacerdote sommo sacerdote giusta domanda domanda lecita perché lui non era della stirpe di Levi o di Abramo soltanto sapete i figli della stirpe di Abramo della casa di Abramo scusate di Aronne e di Levi potevano essere sacerdoti per discendenza il papà sacerdote i figli sacerdoti quindi era veramente una casta non si dice basta basta casta non diceva lui perché lui fa un sacrificio di se stesso di se stesso offre di se stesso il sacrificio e questo sacrificio è permanente gli altri sacerdoti quelli dell'Antico Testamento dovevano ogni volta ripetere il sacrificio dovevano ogni volta sgozzare gli agnelli i buoi tutti le colombe e quant'altro ecco perché il loro sacrificio non era efficace quello di Cristo sì una volta sola l'ha fatto ed è efficace noi sacerdoti preti anzi sacerdoti perché partecipiamo del suo sacerdozio noi preti facciamo memoria di quel sacrificio e quella è la messa quindi il sacrificio è una volta sola suo noi facciamo memoria di quel sacrificio ricordiamo un memoriale dimostriamo a Dio Padre che ci ricordiamo del sacrificio del suo figlio quindi ecco poi c'è gente che ci ha ricamato sopra gli studioli sapete biblisti giustamente studiano la Bibbia dicono queste pecore questi vuoi che il Signore caccia dal Tempio è il popolo di Dio che è il popolo di Dio liberato dalla schiavitù del Tempio e tutto il re quindi tante tante interpretazioni quindi per carità non sta di fatto che il Tempio era veramente una multinazionale quando parliamo di Tempio di Giuselemme parliamo di multinazionale da tutto il mondo arrivavano a Giuselemme tutto il mondo del Tempio insomma di vicino non dalla Cina perché insomma però Medio Oriente tutti quanti erano al Tempio e dovevano pagare fare offerte fare sacrifici e quindi il Tempio era diventato una banca una banca centrale diciamo così ricchissima ovviamente perché oro offerte e quant'altro mercato di animali eccetera se questi pellegrini volevano avere la purificazione dice vuoi la purificazione allora devi pagare devi dare i tuoi soldi per comprare il vitello il bue eccetera e allora Gesù dice basta basta vitelli basta buoi basta cambiavalute basta con questo sistema economico ma il Tempio rimane solo che il Tempio diventa lui vi ricordate distruggete questo Tempio in tre giorni lo farò risorgere e gli ebrei rimangono con la bocca aperta dice come questo cosa vuole fare col Tempio distruggere il Tempio lui pensava al Tempio quello bello vuole distruggere il Tempio e ricostruirlo ma è matto parlava di se stesso è lui il Tempio il Tabernacolo è lui adesso bene allora sembra che ci dica soltanto l'uomo libero da tutte queste imposizioni agnelli capri e tutto il re offerte soltanto l'uomo libero può essere pienamente adulto cristiano non ci sono umiliazioni legate a essere indegni tutti quanti siamo degni anche quelli che si reputano indegni c'è gente che mi dice ma io non vado in chiesa perché sono talmente indegno talmente sporco talmente peccatore che neanche posso mettere in piedi in chiesa ho avortito non posso neanche andare in chiesa perché sono scomunicato eccetera eccetera io vabbè intanto in chiesa possono andare tutti perché se in chiesa potessero andare soltanto i santi non so quanta gente c'entrerebbe oggi io sicuramente no perché santo non sono forse non so padre Pio madre Teresa suor Faustina però noi comuni mortali non potremmo neanche entrare in chiesa perché non siamo santi non è la chiesa di santi la chiesa di tutti vai in chiesa e poi vedi quello che ti succede una bella confessione una comunione un colloquio con un sacerdote quando si trova parecchio da fare insomma ecco allora la chiesa è per tutti nessuno nessuno può permettersi di dire tu non puoi venire in chiesa nessuno nessuno neanche Gesù Cristo lo fa quindi a maggior ragione noi io come confessore non posso cacciar via qualcuno dal confessionale dire va te ne non sei degno padre Pio lo faceva però era padre Pio insomma aveva altri standard altre dimensioni mistiche se lo faccio io mi cacciano a me quindi nessuno può cacciar via qualcuno dalla confessione se realmente è pentito perché se non è pentito è inutile no scusi lei non è pentito allora perché la confessione non vale sapete che perché la confessione vale che uno deve essere veramente pentito almeno promette di non fare più quelle cose che ha fatto beh se non lo promette la confessione non vale glielo si dice guardi le do una benedizione però la confessione non è valida se non ha almeno un desiderio di pentimento no e allora allora Gesù sembra dire basta con i codici esterni sapete che gli ebrei avevano 613 norme da osservare sulla purità degli alimenti del corpo e tutto il resto una cosa basta finisce anche questo librone dei codici esterni piuttosto dice l'uomo deve guardare i suoi impulsi interiori perché dal cuore vengono tutte le schifezze impudicizie no avuteri fornicazioni micidi e tutto il resto da lì vengono dal cuore non da fuori dice Gesù quindi tutti gli alimenti sono puri possiamo mangiare di tutto compreso il maiale che gli ebrei ancora oggi non mangiano ovviamente tutto questo si scontra vi hanno detto con gli osservanti con i fondamentalisti quelli duri e puri dice no Mosè ha fatto questa legge e questa legge deve essere non non ti permettere di andare contro la legge di Mosè e vabbè quindi è chiaro che cominciano se vi ricordate Pinocchio fu arrestato dai carabinieri quindi anche lì c'è un riscontro nell'ormanzo di Collodi dei guai che Gesù ha con la legge non tutti non tutti erano così non tutti i farisei non tutti gli scrivi non tutti gli anziani ci mancherebbe altro per esempio Nicodemo fariseo secondo la legge molto pio molto istruito molto servante però va a parlare con Gesù di notte perché di giorno magari lo sgamavano e allora passava dei guai però c'era di notte Natanaele si chiama in altre tradizioni comunque va per esempio Giuseppe d'Arimatea era un fariseo e così via Paolo di Tarso non ne parliamo poi perché lui fariseo figlio di farisei circonciso ottavo giorno insomma uno Gesù se la prende non con i farisei in quanto tali ma con gli ipocriti gli ipocriti sono dappertutto nel cattolicesimo nell'ebraismo nel buddismo nell'induismo dappertutto se la prende con gli ipocriti non con i farisei poveretti che era una classe dirigente quelli che avevano in mano il culto gente che conosceva bene la scrittura e influenzava anche la borghesia diciamo media borghesia i saducei erano i nobili il popolo c'era il popolo e i farisei stavano in mezzo erano quelli che governavano il tempio il popolo e tutto il resto bene allora lui non viene però per abolire la legge la legge di Mosè che Mosè ha dato è perfetta è legge del Signore però dovete compierla con che cosa con la carità con l'amore quindi se io vi dico che giustamente Mosè dice che il sabato non si lavora però se c'è un'emergenza tu lavori e come se per esempio una tempesta minaccia il tuo raccolto non fai perdere il tuo raccolto vai a lavorare un giorno di festa lo raccogli perché se no è una rovina economica e via dicendo lui guarisce il sabato e tutto il resto vi ricordate no? quindi non la legge non l'uomo per legge ma la legge per l'uomo ecco questo è un messaggio che più volte Gesù fa passare ovviamente ovviamente questo causa uno svuotamento una perdita di potere della classe dirigente sacerdoti e quant'altro adesso che stiamo a fare qua? privilegi nostri non solo non solo facevano i sacrifici quindi arrostivano gli animali ma anche se mangiavano la carne o la vendevano quindi vendevano l'animale vivo lo arrostivano e facevano il sacrificio di suave odore e poi si mangiavano la carne oppure la vendevano quindi doppio introito e a Gesù insomma si rizzano i capelli vedendo queste cose dice non è possibile tutto quanto benedetto da Dio no? con la benedizione del Signore perché dovete fare questo non solo ma non era finita perché ogni bravo ebreo osservante va a pagare la decima quindi 10% del suo salario non solo dei soldi ma anche dei raccolti la neto la menta tutte queste erbe preziose ai tempi dovevano essere date in parte al tempio e via andare insomma quindi vedete che è una situazione di grave ingiustizia meno male che oggi è diverso sto facendo una battutaccia comunque vabbè giustizia è sempre esistita sempre esisterà comunque cerchiamo di lavorare per la giustizia invece no? quindi farisei ipocriti e gerarchia sacerdotale amici nemici acerrimi di Gesù e Gesù deve stare attento a volte si nasconde c'è scritto proprio che andò alla festa di nascosto perché se no lo facevano fuori quindi sappiamo benissimo chi era lui dove stava lui che i luoghi frequentava con chi era amico eccetera non c'era bisogno di Giuda che glielo dicesse sapevano benissimo cosa faceva era sempre lì insegnava nel sinagoge nei tempi vi ricordate? si alza legge il rotolo della legge e lo spiega come tutti gli altri allora invece i Giudei volevano che il popolo mantenesse questa dipendenza questa impurità legale che così potevano sfruttare potevano in qualche modo acquistare profitto e purtroppo erano quelli istruiti quelli che sapevano il popolo poveretto il popolo come dicevo amava Gesù era quello che dava da mangiare era quello che guariva era quello che cacciava i demoni era il rabbino era il maestro quello che insegnava era quello che trattava bene le donne immaginatevi trattava bene le donne a quei tempi no quindi il popolo non poteva avere la morte di Cristo però dai e dai le gerarchie quindi i sacerdoti gli ipocridi eccetera hanno sobillato il popolo hanno detto questo qui questo qui che dice di essere il messia non è il messia mettiamo la morte ecco perché crocifiggilo perché il popolo fa quello che di fatto gli dicono di fare il popolo un po' pecorone ecco allora perché alla fine quando Pilato che poveretto dice io non trovo nessuna colpa però ditemi voi cosa devo fare pensate che in alcune tradizioni per esempio per i copti Pilato è santo perché quello che dice non trovo in lui nessuna colpa poi se ne lava le mani vabbè e allora fa quello che dice il popolo perché ha paura che poi il popolo si rivolti vabbè però anche Pilato di per sé vede la grandezza di quest'uomo riconosce la grandezza di quest'uomo però ha paura la paura la pessima consigliera notate che la diffidenza dei profeti parliamo di profeti e quindi gente scelta da Dio per parlare al suo popolo e ce n'è stata una quantità Isaia Geremia Ezechiele Amos profetesse Anna per esempio eccetera eccetera tutti questi scelti da Dio hanno sempre 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 guardato i dirigenti i principi i sacerdoti con sospetto hanno detto questa qui è gente che sfrutta il popolo e si ha molti secoli prima di Cristo Isaia capitolo 1 Geremia capitolo 7 Ezechiele 22 tutti le cede di questi capitoli tutto lì c'è scritto sempre che il popolo è sfruttato è una pecora tosata diciamo così sfruttata dalle gerarchie intelligenti per cui il dottor Marx non dice nulla di nuovo questi concetti che lui ha espresso erano espressi già diversi secoli prima che nascesse il dottor Marx lui poi vabbè toglie di mezzo anche Dio però però ecco si sa che il popolo è sempre stato sfruttato ahimè si fa sfruttare si fa sfruttare perché a volte si ribella anche per esempio contro Mosè dice Mosè c'è portati nel deserto a morire di fame potevano stare in Egitto quindi mormora però non se poi mette una pezza vi ricordate la manna le quaglie l'acqua eccetera il guai ulteriore è che queste cose erano scritte nella legge nei profeti nella Tenac si chiama la Bibbia dell'Antico Testamento erano scritte però purtroppo guarda caso gli iscrivi farisei eccetera leggevano soltanto le parti che interessavano loro non leggevano certo Geremia o Ezechiele non gli faceva comodo leggevano soltanto invece altre cose che davano sostegno passiamo facciamo un salto passiamo al Vangelo di Giovanni il Vangelo più teologico quello più denso se vogliamo non si limita soltanto a raccontare le gesta e i deti di Gesù però ci fa fare delle riflessioni profonde infatti è un Vangelo molto difficile da leggere anche per noi sacerdoti non è semplice quindi è molto teologico raggiunge le vette ecco così della spiritualità cristica allora nei Vangeli Giovanni a un certo punto Gesù guarisce il paralitico e il cieco nato questi qua sì sono guarigioni sicuramente fisiche però vogliono anche dire popolo liberati dalla paralisi e dalla cecità in cui i tuoi capi ti hanno relegato e questo fa preoccupare i capi no? dice apri gli occhi alzati cammina insomma guarda la realtà e tra parentesi gli apostoli chiedono Gesù ma signore chi ha peccato lui o i genitori perché si sapeva che ai tempi la malattia era causa di un peccato personale o degli antenati Gesù dice no né lui né i genitori c'è chi dice che il coronavirus lo manda Dio perché siamo peccatori parrebbe di no parrebbe che non sia un castigo di Dio per i nostri peccati troppi dovremmo averne di coronavirus però c'è chi dice anche questo Gesù invece dice al contrario se ne sanno più di Gesù vabbè pazienza meglio così insomma allora quindi quindi quando i capi i farisei gli iscrivi e tutto il resto vogliono mettere in cattiva luce Gesù riescono riescono perché fanno leva su un concetto tradizionale perché secondo il popolo ebraico il messia il punto del signore doveva anche liberare il popolo dalla schiavitù dai romani i romani erano terribili terribili come i nazisti più o meno dice popolo hai visto questo vostro messia neanche in grado neanche capace di cacciare i romani dicono gli ebrei i capi ebrei al popolo e allora non è il messia e il popolo dice ci avrà ragione sarà così e allora ecco perché dopo tutto quello che ha fatto per il popolo era veramente un filantropo come lo chiamano ancora oggi i nostri fratelli orientali era un filantropo di quelli con la F maiuscola ecco allora perché il popolo poi alla fine dice vabbè metti la morte sarà un falso sarà un finto messia chi lo sa non fa il colpo di stato non fa i golpe non tira fuori la spada non ammazza non chiama gli angeli per distruggere le regioni romane niente però dice Giovanni capitolo 12 quando sarò elevato in alto attirerò tutti a me questa frase ha un doppio significato perché in greco airò il verbo airò vuol dire sia mettere in croce ma anche glorificare quindi Gesù dice quando sarò messo in croce e quindi glorificato attirerò tutti a me ebrei gentili tutti qua tutti quindi la promessa che ha fatto e ci crediamo insomma allora quindi alla fine anche il popolo piega il capo a questi caporioni c'è il suo rifiuto ma anche perché sapete la libertà fa paura se io lascio un libro a una persona questa persona magari ha anche paura della libertà se io invece gli dico tu alle 8 devi alzarti alle 8 e mezzo fai colazione alle 9 cominci la preghiera a 9 e mezzo vai al lavoro fino a luna lavori a luna stacchi vai a pranzo fino alle 2 è diverso se io gli dico organizzati tu la giornata magari questa ha paura ma come faccio ecco perché il popolo a un certo punto tende a rifiutare questa libertà che il Signore gli proponeva c'è anche questo da tenere presente ecco perché spesso il governo i governi di tutte le nazioni di tutti i tempi sfruttano questa paura e questa ignoranza diceva anche Gramsci un popolo ignorante fa un favore al potere perché un popolo istruito si mette a pensare ma il popolo ignorante non pensa ecco perché non li fanno studiare e poi le minacce se non fai questo ti ammazzo se non fai quello ti metto in croce se non fai quell'altro e così via ahimè ben poco è cambiato rispetto a quei tempi almeno formalmente qualcosa sì però praticamente direi nel racconto di Giovanni della passione di Giovanni si mette in mostra la violenza il volto demonico del potere c'era un film un libro che parla di volto demonico del potere la violenza inaudita del potere vanno diecimila contro un uomo soltanto quindi immaginatevi quanta paura avessero di questo uomo bastoni con le mazze con le spade vanno là e Gesù gli dice voi siete venuti con i bastoni le spade come fossi un delinquente ma sapevate dove stavo sempre bene ulteriore segno di codardia delle gerarchie del popolo dicono noi non possiamo mettere a morte nessuno siamo governati da Pilato dai romani allora si gli consegnano tradire vuol dire consegnare consegnano i romani i romani non è che gli importasse tanto che questo si facesse Dio figlio di Dio re dice ma tu quante legioni hai nessuna allora che c'entra gli interessava la politica se questo era un capo politico allora si ma siccome il suo regno nei cieli dice vabbè che mi importa sentiamo cosa vuole il popolo e facciamo quello che vuole così stanno tranquilli i romani hanno sempre lasciato libero il popolo libero il popolo di adorare i loro dei non si sono mai messi contro fate quello che volete basta che non rompiate le scatole questo è un po' là e allora c'è qui quella scena tremenda tremendissima blasfema i soldati fan diventare re Gesù ricordate mettono il mantello di porpora la corona di spine e Gesù non rifiuta anche perché non poteva rifiutare però di fatto quella è la sua legalità la corona di spine e il mantello di porpora e lo picchiano indovina chi ti ha picchiato signore tu che sei un profeta prendo in giro Gesù qui si rivela essere veramente il signore signore lo diciamo ancora noi oggi è un signore quindi uno che sta lì sopra delle offese di tutto quanto e lì veramente è il signore dei signori non non si mette a discutere o a così far diatribe con questi qua si lascia fare è al di sopra veramente di tutto anche di questi la sua risposta se in Giovanni capito 18 io sono re non il re notate c'è una notevo differenza sono re non il re attuale quello che governa adesso sono re in generale perché se vi ricordate nel battesimo tutti quanti siamo re profeti sacerdoti regine sacerdotesse profetesse quindi è come se dicesse io sono re e anche chi è battezzato dopo di me diventa re quindi ha la dignità regale attenzione attenzione a trattare male un battezzato perché è un re un sacerdote un profeta e vabbè quindi questo è un altro aspetto che spesso non viene trattato viene un po' lasciato da parte però veramente è il Signore con la S maiuscola il Signore dei Signori Gesù lascia fare lascia fare lascia che venga bastonato ridicolizzato gli venga sputato addosso che vuoi che sia no lui è il Signore sta lì sopra per cui e si dona fino in fondo poteva dire basta smettetela no non lo fa ma fino in fondo dà la vita dà tutto di sé più di quello non poteva dare vi assicuro più della vita non poteva ecco perché è credibile il suo sacrificio la condanna la sentenza di morte contemplava il fatto che lui si definisse figlio di Dio figlio di Dio ai tempi tutti quanti oggi siamo figli di Dio ovviamente è pacifico però a quei tempi non era così era voleva dirsi io sono il più perfetto tra gli uomini figli di Dio ecco veniva intesa così la frase figlio di Dio a quei tempi era mi considero imperfetto ed è vero era vero era più perfetto tra gli esseri umani della natura umana ovviamente ma gli ebrei dicono no questo è uno che si è montato la testa si è esaltato facciamolo fuori meglio che muoia uno che altri ne abbiano poi conseguenze muore come un delinquente infatti Matteo Marco e Luca dicono che fu messo fra due banditi due delinquenti due ladroni quindi in compagnia dei ladroni si era tenuto Giuda che era ladro guarda caso finisce insieme dei ladri Giovanni no Giovanni dice soltanto che erano due una parte una dall'altra non specifica se erano ladri delinquenti eccetera quindi potremmo benissimo essere anche noi che facciamo compagnia al crucifisso non solo ma la targhetta il titulum crucis cosiddetto quella specie di tavoletta che fu fatta mettere sulla croce era scritta in tre lingue ebraico greco e latino voi sapete che a quei tempi si parlavano tre lingue almeno l'ebraico la lingua liturgica l'aramaico la lingua comune corrente del mercato il greco che era un po' l'inglese di quei tempi tra nazioni diverse parlavano il greco quindi Gesù parlava greco con Pilato probabilmente se non latino il latino perché è la lingua degli invasori quindi chi era servo schiavo degli invasori tipo tale Levi Matteo doveva parlare latino anche qui bene l'iscrizione della croce era in tre lingue quindi per tutti per gli ebrei per i greci cioè i pagani per i romani per tutti e già lì capiamo il valore del sacrificio quello in tre lingue Gesù Nazareno re dei giudei in che senso re non il re ma re re quindi perché tutti quanti poi si facevano re potevano diventare re tutti battezzati quindi non un popolo particolare non soltanto il popolo ebraico ma per tutti quindi è un esempio messo in alto in modo che tutti quanti potessero vedere e tutti quanti tutte le lingue perché tutti capivano o l'ebraico o il greco o il latino potevano capire che è successo notate che gli ebrei protestano dice non è il re di giudei lui dice di essere il re di giudei di là dice no quello che ho scritto rimane basta perché è vero doveva essere così no la regalità di Cristo per i giudei per i greci per i latini per tutti quanti Gesù durante l'ultima cena con i discepoli accenna alla loro legge la vostra legge dice parla la vostra legge non la nostra legge la legge è sempre la stessa non può cambiare non è che lui scrive un trattato di diritto canonico nuovo è sempre quella la legge di Mosè rimane quella decalogo deuteronomio quella è ecco quindi non la loro legge ma la nostra scusate la loro legge non la nostra legge quella nostra di discepoli in questo messaggio ci sono nemmeno due riflessioni da fare che Gesù ama fino a dar la vita e vi assicuro che che oggi anche c'è gente che magari non muore per qualcuno però dà la vita per qualcuno per esempio un figlio che accudisce la madre ammalata per tanti anni dà la sua vita per questa persona almeno una parte della sua vita oppure rifiuta di sposarsi perché deve accudire i genitori anziani ammalati dà la sua vita anche se non muore quindi donare la vita è anche questo non è necessariamente farsi ammazzare scuartarsi uccidersi eccetera invece il messaggio l'altro messaggio è che si può odiare fino a togliere la vita anche senza ammazzare anche senza uccidere se però io odio intensamente qualcuno una persona con parole brutte giudizi critiche mormorazioni calunnie è come se uccidessi questa persona diffamo questa persona la faccio finire in carcere abbiamo visto il caso del cardinale Pell 404 giorni di carcere innocente l'hanno ucciso con la lingua lui è vivo grazie a Dio però è come se fosse morto per quel periodo e così insomma l'odio può diventare mortale anche senza uccidere quindi attenzione alle parole attenzione a quello che si dice questo sembra dire che ovunque ci sia un minimo di potere c'è anche il diavolo molto demonico del potere c'è un bellissimo racconto dell'antico testamento dice le piante a un certo punto decisero di eleggere un re delle piante è una parabola è un racconto ovviamente allora le piante vanno dal dal fico dice tu fico che sei così dolce così popolare viene a regnare su di noi fico dice no vanno all'ulivo dice caro ulivo i tuoi frutti sono così utili si fa l'olio regna su di noi e così via sapete chi accetta di regnare sulle piante il rovo le spine perché perché appunto il potere è il luogo delle spine del rovo chi ci va deve pagarla no quindi occhio ad ambire a volere ambizioni no a far carriera la gente vuole diventare vescovo io voglio diventare vescovo attenzione non sai quello che chiedi e quindi dico io meriti di averlo così poi ti rendi conto cosa vuol dire avere queste responsabilità bene allora tuttavia Gesù fino alla fine dà un'altra possibilità datemi da bere dice almeno un gesto di umanità di speranza fatelo viate compassione di me dice sembra dire datemi da bere ho sete sizio in latino risposta gli danno che cosa vi ricordate una spugna imbevuta di aceto anni fa mi trovavo in un paesetto della Basilicata per fare delle predicazioni proprio a settimana santa il venerdì santo digiuno astinenza metto in tavola insalata con altre cose e vedo che mancava l'aceto io amo l'aceto un aceto dipendente lo metto dappertutto anche perché fa bene dicono non c'è l'aceto dico ma è l'aceto come reverendo l'aceto verdi santo l'aceto mi sono fatto di mille colori adesso ho capito perché perché nel Vangelo c'è scritto che da bere aceto al nostro Signore ecco perché venerdì santo non si mette l'aceto sul tavolo confesso che non ci ho pensato ha fatto la pessima figura vabbè insomma comunque è un'usanza locale non è che però vedete il rispetto insomma gente che popolo che conosce la scrittura la mette in pratica anche è andato da bere di mettere l'aceto al nostro Signore questo impedisce di mettere l'aceto sull'insalata il venerdì santo quindi fino all'ultimo Gesù dà una possibilità ai suoi a questa gente che lo odia che lo mette in croce datemi da bere niente aceto vino drogato il vino drogato era un vino con dentro degli anestetici per fargli sentire meno dolore no non lo vuole vuol dar tutto quello che Gesù raggiunge è il compimento dell'essere umano quindi l'essere umano si compie dando la vita abbiamo detto non magari non morendo però dando la propria vita per altri per i figli per la famiglia e tutto il resto quindi quello senza limiti senza condizionamenti senza rancore no perdona loro perché non sanno quello che fanno e invece noi adesso vedi adesso prossima volta che mi capita sotto le mani vedi cosa gli faccio io vedi 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 no ovviamente non è questo quindi quindi concludo brevemente ricordando la storia di questo triduo questi tre giorni abbiamo fatto una catechesi apposta sul triduo questo triduo fino al quinto secolo quindi quattrocento dopo cristo si chiamava la trionfante celebrazione di questi giorni trionfante celebrazione di questi giorni non era non era necessariamente un periodo di lutto di dolore di 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 lacrime no era la trionfante celebrazione di questi giorni perché percepivano che da lì veniva un frutto eccezionale la vita la salvezza no dopo che Gesù muore non diciamo Gesù muore in croce non c'è scritto che muore attenzione anche questo c'è scritto tutto è compiuto dun consummatum est e poi china il capo e consegna lo spirito consegna lo spirito non è che non c'è scritto che muore consegna lo spirito è miso un sospiro e spirò quindi e quindi poi lo spirito santo lo risuscita quindi torna lo spirito nel Gesù morto lo risuscita quindi chi è caduto in terra se non muore eccetera eccetera se invece muore dà molto frutto quindi è una morte reale corporale perché muore però dice emette lo spirito quindi lascia aperta la possibilità a chi sa leggere che poi lo spirito torna risuscita ecco perché dire è morto era troppo è morto nel senso che era cadavere però ecco con lo spirito viene rianimato no? e vabbè poi ci sono tanti altri altri riferimenti antico testamento per esempio quando viene colpito al costato vi ricordate fu colpito al costato uscì sangue e acqua sangue e battesimo l'acqua scusate sangue e l'eucaristia l'acqua e il battesimo sacramenti però c'era anche il riferimento alla costola di Adamo non ne azzecco una la costola di Adamo quindi vi ricordate quando il signore vuol creare Eva addormenta secondo la tradizione Adamo prende la costola plasma la donna dal fianco quindi la donna deve stare a fianco dell'uomo l'uomo deve stare a fianco della donna non sopra non sotto ma a fianco quindi è un modo per dire eguaglianza e qui diritti parità e via dicendo quindi e poi il servo sofferente hanno forato le mie mani quindi servo di Yahweh hanno forato le mie mani i miei piedi mi hanno sputato in faccia tutte cose già dette da Isaia a secoli prima quindi si compie esattamente tutto quello che i profeti avevano detto e scritto bene allora questo è un po' una lunga un'ora e sette minuti non è uno scherzo spero di non avervi annoiato lunga meditazione sul questo venerdì santo contempliamo questo la croce contempliamo la croce anche se non è possibile andare in chiesa non si può per causa del virus non andateci mi raccomando state a casa fate quello che vi consigliano i governanti in questo caso si obbedite ai governanti perché è essenziale però seguendo questa strada della croce arriviamo a essere pienamente umani figli di Dio veramente non soltanto a parole ma figli di Dio quindi figli di Dio come lui come gente santa regale sacerdozio popolo di sua conquista bellissimo questo versetto mi torna sempre molto gente santa popolo di sua conquista popolo eletto regale sacerdozio insomma tutte queste cose che ci vengono attribuite grazie per l'ascolto Dio vi benedica alla prossima speriamo